Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Siete in compagnia con la due giorni della Melbourne Italian Festa. Il 27 ottobre si prosegue a Sydney con la tradizionale Norton Street Italian Festa. E oggi vorremmo chiedervi qual è il vostro rapporto con le feste italiane in Australia. Ci andate? E magari soprattutto per chi è a Melbourne cosa ne pensate di questo nuovo format che prevede ben due giorni di festeggiamenti. Potete chiamarci al 1300 799 626 fino alle 9 della costa est o anche scriverci un sms allo 0429 996 263. E questa mattina ne approfittiamo anche per darvi qualche anticipazione sulla Melbourne Italian Festa per sapere esattamente cosa succede. Una festa alla quale parteciperemo anche noi con uno stand nella giornata di domenica 6 ottobre. Ma come dicevamo la festa dura tutto il fine settimana. E per parlarci di cosa bolle in pentola questa Melbourne Italian Festa abbiamo in linea Elaine Bocchini che coordina l'evento per il Coasi di Melbourne. Buongiorno Elaine. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovata. Come dicevamo sono due le giornate, ce l'avevi già raccontato qualche settimana fa, con tantissimi ospiti dall'Italia e dall'Australia. Ricordiamo in breve le novità principali di questa nuova edizione. Allora non abbiamo abbastanza tempo per dirle tutte per cui cercherò di focalizzarmi su quelle che veramente secondo me sono uniche e prime tra tutti lo Zecchino d'Oro. Che accoglierà 12 cori delle scuole elementari del Vittoria che si alterneranno sul palco sabato e domenica e che canteranno le canzoni più belle della storia dello Zecchino d'Oro. Poi abbiamo ospiti dall'Italia, ci saranno sei stand dedicati a rappresentare diverse regioni italiane, uno stand del Ministero degli Esteri che rappresenta il progetto Italia Turismo delle Radici, che è un bellissimo progetto che vuole riunire gli emigrati italiani del mondo, in tutto il mondo, alle loro radici. Poi avremo un grande concerto il sabato pomeriggio che riunisce tutti gli artisti che canteranno sul palco nelle due giornate. Saranno tutti insieme per festeggiare con noi, con una serata che andrà fino a notte fonda con DJ set, musica da ballare. Ci saranno masterclass sul vino, per cui per chi non solo vuole assaggiare il vino c'è un'area dedicata al tasting, ma la possibilità anche di sedersi ed ascoltare tutte le descrizioni e i racconti che sommelier, addirittura sommelier che arrivano dall'Italia, specialmente per la masterclass dedicata al Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una sommelier Chiara Tegon che viene direttamente dall'Italia e poi abbiamo Chemist Warehouse, il nostro naming sponsor, che ci stupirà con sorprese di cui ancora io non so neanche il dettaglio, per cui tenetevi stretti. Sembra che accadrà davvero di tutto e di più e come avevamo preannunciato, sono due le giornate quest'anno, non soltanto una. Quindi si inizia sabato e quando si finisce? Raccontaci un po' di questa dimensione temporale della festa. Allora cominciamo sabato alle 3 del pomeriggio, con tra l'altro un inizio molto importante perché alle 3 e mezza ci sarà l'apertura ufficiale che sarà presenziata dal nostro premier del Vittoria, per cui abbiamo veramente, oltre ad esserci, la rappresentativa del Ministero degli Esteri italiano, per cui con personalità di assoluto rilievo. La giornata andrà avanti fino alle 11 e mezza della sera, quindi dalle 9 di sera in poi alle 10 diciamo che chiude la parte interna, si concentrerà l'attività tutto sull'esterno dove appunto si ballerà fino a tardanotte. La domenica invece cominciamo, è l'orario tradizionale, cominciamo alle 10 della mattina e finiremo alle 7 del pomeriggio. Insomma, un programma davvero densissimo, come ci accennavi, quindi non possiamo dare conto di tutto quello che succederà, però prendo un po' spunto da quello che ci scriveva prima Alessandro, che diceva, oltre all'intrattenimento, alla promozione di aziende, gli piacerebbe trovare anche qualche spazio per favorire l'incontro tra italiani appena arrivati e italiani già ben radicati. Voi cercate un po' di parlare a tutte e due queste parti della comunità, giusto? Assolutamente, questo diciamo che è veramente il nostro obiettivo, creare una piattaforma di incontro per tutti. E al di là del progetto We Care Hub del Coasite, che proprio aspira a questo, a mettere in contatto i nuovi arrivati con chi è già qui, ma proprio il progetto della Melbourne Italian Festa accoglie a braccia aperte tutti i nuovi arrivati, i nuovi business appena iniziati. Abbiamo proprio creato un concept per mettere in condizione tutti, non solo chi è qui da molto e conosce, sa come muoversi, ma di partecipare sia come espositori che come pubblico. Allora Elaine, ti diamo appuntamento a sabato e domenica, so che sei impegnatissima per gli ultimi preparativi, buon lavoro e a presto. Grazie e aspetto tutti, numerosi e contenti. A presto. Grazie Elaine, questa è Elaine Bucchini che coordina l'evento per il Coasi di Melbourne, stiamo parlando naturalmente della Melbourne Italian Festa, in programma per questo fine settimana e per parlare più in dettaglio della parte musicale della festa, ora abbiamo in linea anche Mirko Guerrini e Ilaria Crociani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Mirko, buongiorno e naturalmente parliamo con voi proprio dell'aspetto musicale e artistico, perché siete i direttori artistici di questa Melbourne Italian Festa. diceva Elaine di prepararsi a danze, musica, ci sono naturalmente tantissimi artisti coinvolti, sia italiani d'Italia, sia italo-australiani, ci dai un assaggio di quello che si vedrà? Certo, la vera novità quest'anno è che ci sono parecchi artisti che vengono dall'Italia, perché abbiamo avuto la partecipazione anche di alcune delle regioni italiane che mandano degli artisti, ci saranno dei cantanti lirici che vengono dal Lazio con un programma tutto incentrato su Arie della Tosca per celebrare il centenaio della morte di Giacomo Cuccini. Poi avremo anche come l'anno scorso un pochino di tarantella, perché quella non manca mai, quindi ci sarà Ciccio Nocera che presenterà il suo show, la tarantella un pochino più moderna, diciamo sarà ad opera di Salvatore Rossano con il suo progetto Santa Taranta. E poi, come diceva Elaine poco fa, ci saranno tanti gli artisti che si alternano sul palco con anche artisti che l'anno scorso non hanno partecipato, come Nina Ferro che presenta il suo progetto Gold Standard e Monique Di Mattina che presenta un lavoro tutto dedicato alle origini del suo nonno che veniva da Stromboli e con delle canzoni originali scritte apposta per questo progetto. Ci saranno anche i Siesta Cartel come ci sono stati l'anno scorso, loro sono una presenza fissa che non possiamo perdere e dalle regioni arriveranno anche dei musicisti sardi, dei musicisti tradizionali, quindi cantanti a tenores con anche dei danzatori tradizionali. Abbiamo per il teatro una piece teatrale che si chiama Pane di Casa che sarà in scena domenica sul palco interno perché così come l'anno scorso ci saranno due stage, uno all'interno del Royal Exhibition Building e uno all'esterno e mi sto dimenticando qualcosa, sì all'interno. È difficile ricordarsi tutto, avete un programma troppo ricco quest'anno, c'era qualcos'altro che volevi segnalare anche? Sì, ci sarà Sergio Ercole che presenterà un recital per chitarra sola, ci saranno i Solo Antico che è un'altra novità di quest'anno che faranno musica degli anni 80 e degli anni 90 italiana, ci sarà un'altra band che fa swing italiano che si chiamano Dai Ciccio, col punto esclamativo alla fine e poi ci sarà questo evento che riunisce un po' tutti i cantanti, ah scusami, mi sono dimenticato di Lorenzo and the Spaghetti Connection, è un gruppo che fanno cantautori. Una band di Melbourne, giusto? Sì sì, è una band di Melbourne e fanno cantautori italiani da Paolo Conte a Guccini a De Gregori e poi c'è questo concertone che è scritto con la C e la O maiuscola così qualcuno lo può chiamare Concert One, che non so bene cosa voglia dire ma ci piaceva, che riunisce sul palco tutti i cantanti o quasi tutti i cantanti che partecipano alla festa, quindi Nina Ferro, Monique Di Mattina, Sergio Ercole, Salvatore, tutti insieme, Ilaria, Crociani, tutti insieme per cantare le più belle canzoni italiane. Hai citato Ilaria Crociani che assieme a te Mirko è direttrice artistica del festival, è qui con noi Ilaria, non ho capito bene? Sì sì, sono in assurdo. Buongiorno Ilaria, che piacere. Ciao Ilaria. Buongiorno. Quindi tutte le performance che avete selezionato ci sarai anche tu però, ti vedremo sul palco. Sì farò un'apparizione, sì sì, io avrei scelto di cantare Morricone per il Concert One o Concertone perché è importante avere un sample di tutta la nostra bellissima musica italiana e devo dire che quest'anno abbiamo anche pensato a questa idea dell'incontro fra la tradizione e la modernità ma anche l'incontro fra quelle che sono gli italiani e le loro radici, quindi gli italiani a Melbourne e le loro radici con appunto le novità italiane perché per esempio Monique Di Mattina presenta questo lavoro dedicato al nonno e la presenza dei musicisti tradizionali, insomma volevamo che ci fosse questa idea di continuità e di viaggio. Infatti la musica, devo dire, lo sappiamo anche noi qui a Radio SBS perché ogni scelta musicale è accompagnata da commenti che ci arrivano, positivi e negativi. Ogni canzone ne attrae di positivi, chi dice troppo nuova, chi dice troppo vecchia. È difficilissimo accontentare tutti. È difficilissimo accontentare tutti. Vedo che avete infatti cercato di fare un programma il più possibile ampio proprio per riflettere la varietà della comunità anche. L'idea era anche quella di poter dare spazio a italiani che però hanno nelle loro radici, scusami, artisti australiani che però hanno l'italianità nelle loro radici, quindi Nina Ferro, Monique Di Mattina, Sergio Ercole, sono tutti nomi famosi in Australia ma che in un certo senso trasferiscono nella loro musica parte di quella che è la loro tradizione familiare. Quindi per noi era importante avere questa diversità nella musica, però accomunata da questo senso. Anche se poi per esempio Nina Ferro farà qualche canzone italiana, però lei presenterà il suo show. Quindi per noi era importante avere un mix di eventi che però fossero accomunati da questa appartenenza, se vogliamo, più affettiva verso l'Italia. Ed è un po' l'idea della festa, quella di aprirsi all'intera comunità australiana e a tutta Melbourne. Ilaria Emilico, grazie mille per essere stati i nostri ospiti oggi. Volete invitare apertamente chi ci ascolta a raggiungervi sabato e domenica? Beh, certo, certo. Vi aspettiamo tutti alla Melbourne Time Festa e speriamo di passare un bellissimo weekend tutti insieme. Io posso aggiungere, ho visto molti commenti, ci sono molte persone che sono legate alla festa a Ligon e che io adoravo, a me piaceva tantissimo, ma credo che bisogna aprirti alle novità e essere curiosi. Quindi anche se eravate degli affezionati alla festa di Ligon e la festa di Ligon vi manca tremendamente, nel quale venite, date un'occhiata e scoprite che cosa è la festa invece all'Exhibition Building. Che peraltro non è lontanissimo, è sempre a Calton, soltanto un pochino più a Est, diciamo, rispetto a Ligon Street, a due passi. Grazie Ilaria Crociani e Mirko Guerrini, in bocca al lupo, buon lavoro e a presto. Bene, ci vediamo alla festa! Ci vediamo alla festa, grazie a tutti e due. E noi invece ricordiamo a chi è all'ascolto che appunto stavamo parlando della Melbourne Italian Festa che si terrà questo fine settimana al Royal Exhibition Building di Calton, ma vogliamo sapere da voi se ci andrete, qual è il vostro rapporto con le feste italiane in Australia in generale. Magari ci sono anche delle feste che non abbiamo citato. Noi parlavamo della Norton Street Festa che ci sarà a fine mese a Sydney, siamo stati recentemente al Ferragosto di Five Dog, ma ci sono tantissime altre feste anche in altri stati. Sì, parlate di Kent, di Perth, di Griffith, ce ne sono ovunque. Esatto, raccontateci la vostra festa del cuore, anche quella a cui siete andati e che vi è piaciuta particolarmente e diteci perché. 1300 799 626 oppure anche un messaggio allo 0429 996 263. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo. Ed è una canzone proprio dei radiosuccessi, formazione di cui fanno parte Mirko Guerrini e Ilaria Crociani, questa regina dello Yeye che è una canzone che era originariamente cantata da Gina Lollobrigida nel 1965. Parlavamo prima appunto del fatto che alla Melbourne Italian Festa ci sarà musica per tutti i gusti ed effettivamente questa canzone, ad esempio, magari piacerà a chi magari rimpiange certe atmosfere italiane anni 60. Una canzone molto molto bella. Cercavamo bene anche noi oggi, tra i Comacose e Gina Lollobrigida stiamo spaziando parecchio, non come la festa, ma quasi, ma quasi. Siamo ecumenici sempre, vero Max? Ci proviamo. Abbiamo un'altra ospite in linea, vero Magica? Esatto, dovrebbe essere a questo punto con noi in linea Silvia Catozzi, che in genere risiede a Hobart, ma in questo momento è proprio in visita qui a Melbourne e fa parte, tra l'altro, del Comites del Vittoria della Tasmania. Silvia, buongiorno. Buongiorno Magica e Massimiliano, giusto? Assolutamente, giusto. Fai bene perché da un po' che manco, quindi se non ti ricordi il nome va benissimo. Allora, intanto, ovviamente stiamo parlando della Melbourne Italian Festa, abbiamo citato Norton Street, sono forse le feste più conosciute in Italia, ma anche Hobart, da dove tu provieni, ha la sua festa italiana, tra l'altro ci lavori anche come volontaria, raccontaci un po' di quella festa, di cui magari si parla un po' meno e di come viene vissuta a Hobart. Sì, allora, la nostra festa ovviamente non è grande come quella di Melbourne e ancora siamo sul livello che la facciamo in un giorno solo, quindi speriamo che negli anni riusciamo ad arrivare ad un livello di attendance che ci permette di farla sabato e domenica. Comunque è una festa abbastanza sentita perché la comunità italiana ad Hobart è molto unita e ci sono tanti, tanti italiani. Ovviamente la popolazione di Hobart, si sa, è un po' più anziana rispetto agli italiani che sono a Melbourne, però ultimamente nel comitato che organizza la festa italiana di Hobart ci sono molti più giovani, infatti io con qualche amico e amica siamo insomma coinvolti in tutte queste attività, dobbiamo scegliere l'entertainment, il catering e come hai detto tu Magica, è una festa organizzata esclusivamente da volontari, quindi insomma tanto lavoro immagino, tanto da fare. La fate a febbraio se non ricordo male, vero? La facciamo a febbraio, in teoria cade sempre la terza domenica di febbraio, però ovviamente siccome il planning è cominciato qualche settimana fa, stay tuned perché insomma dobbiamo ancora annunciare la data vera e propria, poi abbiamo la nostra pagina Facebook che invito tutti quanti a seguire perché abbiamo persone che vengono dagli altri stadi dell'Australia, quindi sì, diciamo che a volte ci dimentichiamo che esiste la Tasmania, però poi quando c'è la festa vengono tutti in Tasmania. È bellissima la Tasmania, non me la dimentico mai, è uno dei posti più belli d'Australia secondo me, invece parliamo delle feste appunto, della percezione che gli italiani d'Australia hanno proprio di queste celebrazioni. C'è un po' di nostalgia in queste feste o invece sono contemporanei, sono attuali, è una bella occasione per festeggiare e stare assieme? Sì, penso che è un po' abbastanza bilanciato, c'è la nostalgia però poi è bello perché vedi tutte queste generazioni insomma di italiani, australiani, persone molto anziane con i bambini, piccolini che magari si vestono. Noi abbiamo sempre le bambine dai dieci, magari non so, anche più piccole, dieci anni, 5-6 anni che si vestono tipo da romane o anche da maschere veneziane. Poi ovviamente cerchiamo di avere tutti i drink italiani, quindi la San Pellegrino, l'aranciata rossa, ovviamente non manca l'aperosprezze, perciò direi che c'è un bilanciamento tra nostalgia e spirito di comunità. Silvia, l'ascoltatore che ci scriveva prima, Alessandro, diceva che a lui piacerebbe trovare oltre all'intrattenimento e alla promozione di aziende italiane anche occasioni di incontro tra italiani appena arrivati, italiani già ben radicati. Per te che sei ad esempio una delle italiane come dire più recenti, il fatto di partecipare alla festa come volontaria ti ha aiutato anche a inserirti meglio nella comunità? Sì, assolutamente. Io in realtà ho vissuto a Melbourne per tre anni prima di spostarmi in Tasmania e la prima cosa che ho fatto quando sono arrivata in Tasmania, quindi ad Hobart, sono andata al club italiano perché ovviamente non che volevo stare ovviamente sempre in mezzo agli italiani perché sai la lingua la devi praticare, quindi l'inglese deve essere comunque parlato, però avevo bisogno di questa connessione e quindi sicuramente sì, fare la volontaria con il club e quindi essere coinvolta nella festa mi ha aiutato tantissimo perché ho fatto tante connessioni, conosco tante persone che ovviamente mi hanno aiutato, magari mi hanno anche soltanto dato dei consigli su dove andare, cosa fare, se avevo bisogno di qualcosa, perciò sì, assolutamente sì. E da ex melbourniana quest'anno ci sarai alla festa di Melbourne? Cosa, scusami? Dicevo da ex melbourniana ci sarai alla festa di Melbourne quest'anno? Assolutamente sì, io sarò allo stand del Comites per un paio di ore tra sabato e domenica, quindi insomma chi mi vuole venire a salutare e oppure vuole sapere più informazioni su Hobart venite a trovarmi. Benissimo, ti vedremo lì allora Silvia, grazie mille, buona festa e a presto. Grazie a voi, grazie mille, buona giornata. Era Silvia Catozzi che fa parte appunto del Comites di Tasmania e Victoria, lei vive a Hobart ma in questo momento si trova a Melbourne e ci ha accompagnato quasi alla fine della prima ora che naturalmente non chiude il programma italiano, ce n'è anche una seconda come sempre. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.